Grazie per la visione! Tipo le cartucce del fucile, possiamo anche lasciarli giù, il video cassette di mia ce la guardiamo dopo, polvere da sparo la lasciamo giù, l'erba verde la lasciamo giù, tanto abbiamo comunque questi, anzi, che facendo? Dipende da che poi facciamo le combinazioni. La scultuola, teniamo la testa di cane, se non è giusto missioni, la lasciamo giù, e per ora andiamo in giro così. Allora, abbiamo visto l'altra volta che per danneggiare Jack Lee mortale... Qualche colpo di pistola, ben assestato, può almeno, non può sicuramente ucciderlo, ma può almeno rallentarlo quanto basta per riuscire a giocare un po' più tranquilli. Ora, il nostro scopo è quello di prendere il... Oltre quello di levarci dalle scatole da qua, è quello di prendere il fucile che sta là. Però, c'è un problema, se tento di prendere il fucile, sta porta qua si chiude, c'è un meccanismo bastardo. Quindi, conoscendo come ragiona Resident Evil, dovrò trovare qualcosa per sostituire il fucile. Quindi, conoscendo come ragione, vediamo le scopo di 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 scopo. Mi sa che lo zio Peppe è qua dietro. Andiamo in giovani più tranquilli e più velocemente possibile. Ovviamente non è più qua. Sì, potrei guardare la cazzetta che è mia, ma la guardo un'altra volta. Eccola qua. Un'altra testa di cane, bene. Ci manca solo... Senti zio, fai il bravo, su. Dove diavolo credevi di andare, figliolo? Non avere il bravo. Entra qua. Sei il coraggio. Eccolo. Grazie a tutti. Non lo vedo più. Ok, l'ho perso. Ora, torniamo a noi. L'ultima testa di cane è sicuramente qua, qua dietro, a sto quadro. Però, per attivarlo... ...mettere qualcosa lì. Che cacchio è sto cosa? ... 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